Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Nel video di oggi andiamo a parlare di bike fitting. In questo video mi sentirete parlare poco proprio perché sono andato a farmi mettere in sella nello studio di 4Performance che tra qualche secondo vi farò vedere e vi farò vedere direttamente come fanno loro una seduta in sella dalla visita che sono andato a fare prima di mettermi in bici al vero e proprio posizionamento in sella e quindi vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché solo alla fine poi scoprirete cosa c'è in servo per voi. Riuscirete a vedere nel dettaglio oltre alla visita che vi ho detto prima il mio posizionamento in sella dalla posizione dove sono partito ai piccoli cambiamenti che abbiamo fatto fino ad arrivare alla conclusione finale e come è cambiata la mia posizione in sella prima e dopo. non vi anticipo altro e vi lascio al video. Buona visione! Come prima cosa siamo andati a trovare la posizione ideale per le tacchette. quali? La quinta testa metatarsale, la base del punto dito e la base del primo dito, quindi l'osso più esterno e l'osso più interno del piede. ed ora vediamo il motivo perché viene posizionata così. di base una tacchetta, come lavoriamo noi, viene posta, questo è il centro della tacchetta, ok? il centro dell'ovale grigio, io adesso riporto il centro esatto è la tua quinta testa, il centro esatto è la tua prima testa sulla suola e di base per un avatore, per un professionista, per una donna, per una signora, indipendentemente dagli obiettivi la base, il punto di neutro, va praticamente sulla linea passante per questi due punti, quindi il centro della tacchetta posta sulla linea passante per questi due punti, come vedi questa è molto avvalutata, dopo vi spiego cosa comporta, è una tacchetta molto avvalutata. ok, alzate, poi si chiede. ed ora, prima di salire in sella, si va a fare una piccola visita per fare un check generale di tutto il corpo. mi sento sul lettino, pancia in su, testa di, chiedi qua, è Lorenzo con la bici, cosa ci devi fare? devi fare gare, giri, giri, con l'idea di fare gare, diciamo. oh, mi gira, ma sono del bici, ma che è fatto di gare? l'esperienza passata con il bici, senti, rilassato, infortuni poi... infortuni non è stata fatta a caso perché dolori a schiena o a ginocchia sono degli infortuni tra i più comuni fra i ciclisti. perfetto. e adesso, facciamo questa. detto questo, parto giusto. rilassati. rilassati. chilometri in un anno, in media. eh, è la domanda. ci saranno dai 5 ai 10 mila. più mila. ci sono un po' di 6 mila, un po' di chilometri. ora, esegno in un leg, ottenuto a frontale, lì sull'ettino, sai? lo faccio i domini e poi... tieni ben sotto la spalla. ora, perfetto. rilassati bene. ok? scendi dal l'ettino. ok? facciamo sempre un test al di fuori della bici. ok? il test è una magia di schiena. per vedere se una persona presenta dismetria all'alto inferiore. ok? e perché è stata fatta questa visita prima di salire in sella? diciamo, possiamo sempre un test per capire che andiamo davanti, ok? si presenta appunto dismetria all'alto inferiore. come a livello di flessibilità muscolare, forza muscolare. se comunque presenta delle dismetrie e anche delle dismetrie che si trascina dalla vita quotidiana, anche dal lavoro. in maniera che, se vogliamo delle cose strane e dimici, possiamo ricondurle a certi atteggiamenti. e con certi cose che abbiamo visto qui. mani infianti. mani infianti. mani infianti. mani infianti. mani infianti. ultima cosa. poi le mani. poi verso il punto di piedi. ok. usciamo pure. andiamo. premissa. io, se vedrai che ogni volta, regolo l'altezza della sede anteriore. e faremo delle variazioni a visi che fanno scendere, quindi la ruota anteriore si alzerà. ok? e questo è R-Tool, ovvero il programma che viene utilizzato per fare le sedute di messa in sella e dopo vedrete tutti i dati che ci riesce a fornire. ma perché davanti con questa posizione? eh, non ne ho detto no. la tacchetta, per come era regolata prima, hai visto i due punti. ed ecco cosa rischiavo se mantenevo quella posizione di tacchetta. io adesso sono andato tutto indietro e nonostante ciò sono ancora avanti rispetto alla prima. l'idea di una tacchetta avanzata si porta ad una pedalata molto instabile che significa estensione e flessione. quindi se io devo estendere e tornare a flettere sono molto instabile, soprattutto repito muscolature non adeguate. se io avventro la tacchetta do maggiore stabilità, mi affatico molto meno precocemente rispetto a prima e coinvolgo maggiormente la muscolatura responsabile e la spinta. è un quadrante che ti avvite. una tacchetta tanto avanti sollecito tantissimo colpaccio e quindi mi ero pure. colpaccio recitismo non è un muscolo fondamentale, ok? è importante ma non è fondamentale. è una fibra muscolare completamente opposta rispetto a quella delle discipline di gluteo quindi sono muscoli forti e resistenti, ok? fermati pure. altra premessa, il ciclismo è uno sport simmetrico, è una disciplina simmetrica, ok? però non è sempre detto, anzi, non è sempre detto, è una supposizione e un pensiero andare a valutare solo un lato pensando che il controlaterale sia uguale, ok? nel 80% dei casi, con una percentuale molto grande, non tutti siamo signori. quindi analizzare un lato e anche l'altro ci permette di non supporre ma affermare se ci sono differenze in termini di rotazioni e spostamenti laterali, ok? rotazioni che comportano, una maggior parte delle volte, un arco più flesso e più avanzato, quindi più sofferente, per controllo un arco più esteso e più avanzato, ok? questo lo metteremo girando la pedala, ok? quindi prima lato destro, senza smettere, senza interrompere la tua pedala, andiamo a vedere lato sinistro e poi ragioniamo sui due. perché ragionare sui numeri, dopo vedrai tanti numeretti, che poi ti spiegherò nel dettaglio cosa saranno questi numeri, cosa sono questi numeri qui ci dicono come tutte dali, ok? pre-tool è un sistema molto valido, molto avanzato, noi iniziamo dal 2009, io raccomando nel 2011, il primo è che tu mi arrivai in Italia, l'hardware e il software sono arrivati pressoché identici. lui ci dà dei numeri espressi in angoli e in distanze, che ci dicono i tuoi movimenti, ok? flash estensione, movimenti laterali, inclinazioni, quindi movimenti laterali, quindi più o meno stabilità di ginocchio, inclinazioni verso dentro, verso fuori. e quindi ci danno dei dati oggettivi su cui fare delle valutazioni, ma soprattutto fare delle variazioni sulla luce. perché io posso guardare i numeri e dire, Lorenzo mi sembra alto, mi sembra basso, mi sembra tanto arretrato, tanto lungo, ma il tanto per me assume un valore, per lui assume un altro, per te assume completamente un altro, ok? quindi avere dei dati oggettivi, Lorenzo, il ginocchio avanzato di 10 mm, 10 sono per te, per me e per adesso, per tutti, ok? e adesso sto applicando dei semplici velfri adesivi, protoni, su dei punti ben specifici del tuo corpo, indipendentemente dal sistema, la differenza, la parte tecnica che applica questi marker. Diretto il cuore di iniziare a preparare. Esatto. Vai, sulle leve. Siamo partiti da una posizione che a me sembrava corretta, mi sembrava di star bene in bici e rimanete fino a fine video, perché rispetto a queste immagini vedrete di quanto cambia. E dopo la prima parte di pedalata, ascoltate bene cosa è saltato fuori. Diciamo che si possono raggiungere avanzamenti e angoli ottimali con una rotazione o con tutta altra rotazione di bacino. Io posso avere l'arte inferiore flesso di top gravi e avanzato di top millimetri rispetto al piede, assumendo una rotazione di bacino così, una rotazione così. Ok. Il mio altro interiore rimane invagliato, ma una rotazione così rispetto a una rotazione di bacino così. Retroversione con tranquillazione, quindi cambia completamente il comfort e soprattutto la resa in bicicletta a livello di resa muscolare. Ok. Tutto il comparto anteriore e posteriore della muscolatura della coscia parte dal bacino. Ok. Ok. Se io ho un bacino che è con la sella posizionata in questo modo qui, mi sta ruotato completamente verso dietro. Quindi in questo modo, avrò un quadricidite che origina da qui e si insieme a qui sotto, che è allungato. I due capi articolari sono allungati. Ok. Se io devo esprimere il potenza sui pedagli, devo avere un atteggiamento completamente opposto. Stessa cosa se io voglio fare rendere meglio il gruppo. Quindi se sono così il viaggio non rende, se sono così il viaggio non rende. Ok. Ok. Presa più comfort e efficienza in bicicletta. La situazione premesso che la volontà di questi dati sta alla base di come vengono applicati i singoli marca nel tuo corpo. Ok. Ok. La tua situazione è buona, ma solo a livello di numero. Ok? Ok. Lo vediamo in molti casi perché lascia stare che verde significa bene e giallo significa male. Ok. Ok. Sempre così. Red Tool. La casa madre da dei range titolari a cui fare riferimento. Come vedi sono di range molto ampi. che noi comunque dopo tanti anni, io e altri 10 anni che faccio questo lavoro qui. Come analisi non riguardo a cosa? Come analisi del sangue. Sì, ma non li vogliamo neanche più. Ci basiamo su un database nostro e su esperienza e soprattutto le sensazioni della persona. perché i numeri sono una cosa ma le sensazioni della persona sono completamente un'altra. In questo caso, come dicevo prima, la rotazione del vaccino lui non riesce a darla. Ok? Ok. E questa è una cosa soprattutto con l'avvento di selle di ultima generazione, chiamane così, corte, wave, quindi curve, appunto per facilitare la rotazione del vaccino verso avanti. Come si muove il vaccino diventa determinante. Ok? Ok. E sei abbastanza simmetrico. Ok? In questo caso dire abbastanza vuol dire tutto e niente. e lui ti quantifica quanto sei simmetrico o meno. Prima cattura lato destro. Prima cattura lato sinistro. Nella colonna centrale c'è il delta. Quindi la differenza tra un lato rispetto all'altro. La differenza grande nel tuo caso, tutto questo si riferisce a camiglia, ginocchio e anca. Tutto il compatto dell'alto inferiore. Bene. Quindi tutti i movimenti di flesso e estensione di camiglia, ginocchio e anca. Ok. Poi il sistema entra nel dettaglio tra classe e estensione e mobilità totale della camiglia. Lui ci dice l'angolo della camiglia nel punto più avastato, più basso e più arretrato della tela lato. Ok? Se vai a guardare la mobilità totale della camiglia, la mobilità è uguale, ma ecco il minimo. Si riferisce all'angolo più chiuso della camiglia durante tutto l'arco di pedalata. L'angolo più aperto durante tutto l'arco di pedalata. La camiglia sinistra lavora molto chiusa, quasi come il taglione fosse basso. La camiglia destra si vede anche ad occhio, lavora molto, molto meglio. La differenza è molto grande, lascia stare a livello di mobilità. Sono identiche che una è orientata molto più così, l'altra è orientata molto più del senso. Hip to foot lateral offset significa hip to foot dall'anca al piede lateral offset distanto orizzontale. Ok. Il valore più negativo è il lato dove tu sei maggiormente spostato. Ok? Questa è una bella differenza, questa è una bella differenza. Questo può essere dato nella maggior parte dei casi per esperienza o da conformazione tua, abitudine tua, abitizi sbagliati precedenti o da una sella simile che purtroppo non ti dà stabilità il vaccino. Quando una sella ha una superficie piatta, il vaccino fa quello che vuole. Una sella più curva, come può essere un avvento arduo, non mi sicuro l'adaptive, ti danno maggiore stabilità. Quindi in questo caso c'è chi ti direbbe, ah bene, però se io guardo all'immagine tua, io vedo un vaccino che parte completamente in regolazione, parte dritto per poi forzare completamente con flessione di rapide e un domito quasi completamente esteso. Quindi questo tuo atteggiamento lo porteremo ad essere così, ruotato avanti e molto probabilmente gli angoli iniziali, le distanze iniziali non cambieranno. Questo è forse il caso più curioso secondo me da far vedere perché tanti si aspettano una variazione grande a livello di numeri e poi quando si guardano il video finale dicono comunque differenza. In questo caso si muove il corpo su una bicicletta e come è la fisiologia muscolare soprattutto, che non è niente di complicato però come si muove un muscolo e quanto e come si affatica un muscolo piuttosto di un altro è fondamentale. Questo per rendere bene i bici, ma un muscolo che va in sofferenza precocemente manda in sofferenza precocemente anche un'articolazione dove è ancorato, dove l'originale è un desiderio. Quindi qui si tratterà di lavorare su questa sella inizialmente, il contro di questa sella, questa sella diciamo ha pochi pro, ha molti contro, che una persona con il bacino tutto retroverso verso dietro, tutto ruotato verso dietro, non sente questa parte qui. Appena tu lavori sull'inclinazione della sella, il bacino ruota avanti e cosa succede? Il pavimento pelvico e la zona del perineo dove passa il nervo che va a dinervare tutta la zona dei genitali, va ad appoggiare e va in basso. Quindi andando a cambiare sella, è una già strutturata meglio, si migliorerebbe notevolmente? Sia soprattutto la prevenzione, che qua dentro per noi è la base di tutto, dall'amatore al professionista, al signore che viene con l'elettrica di 70 anni che vuole uscire e divertirsi. Perché come diciamo sempre, è bello star bene a 20 anni, è bello star bene a 30, ma io voglio star bene a 40, a 50 e anche a 60. Perché avere problematiche fisiche, articolari o muscolari per colpa di un esatto posizionamento e stare male è una cosa che è inconceppibile. Cambiare sella sicuramente migliora la prevenzione, perché una sella sicuramente con un foro, con un canale centrale va ben strutturata, ci sono selle molto deboli strutturalmente, ci sono selle come le nuove fisiche ad esempio molto strutturate, che non hanno questo cedimento qui. Quindi migliora la prevenzione sicuramente, il comfort e anche la resa. Certo, cambiare sella per come lavoriamo noi non significa rimportare le misure, perché questa sella ha una lunghezza, ha una forma, un'altra sella può avere anche la stessa lunghezza, ma se ha completamente un'altra forma, tu puoi appoggiare qui, sull'altra appoggi qui e qui si parla già di centimetri. E soprattutto su questa il tuo bacino parte in un modo, sull'altra parte completamente in un altro modo. Cambiando sella può anche essere che tu possa anche cambiare attacco manuale, cambia veramente tutto. Quindi il discorso dei centri anatomici a 70, noi diciamo sempre che non esistono, non è che non esistono, non sono approcci standardizzabili, perché ogni sella è completamente diversa da un'altra. E soprattutto anche dalla struttura, c'è la manganese, c'è l'R1, c'è l'R3, c'è la 00 e indipendentemente dalla forma varia molto la struttura. Questo è quanto. Quindi le tacchette le teniamo così come avanzamento antero posteriore, ma voglio aprirtele un po' di più. Altra cosa molto migliorabile, avrai notato anche tu, pedali molto con le ginocchia aperte. Retool, una cosa molto molto bella, poi mentre torni a pedalare, te lo facciamo vedere in real time, ci dice il movimento laterale del tuo ginocchio. Questo è come avessi praticamente una penna, una pitta sulla rotola che disegna ogni ascesa e discesa del tuo ginocchio. Questo è come fosse il tubo piantone virtuale della vicina. E questo è il tuo ginocchio che ci dice se lavora internamente o esternamente e quantificato in grado. Il ginocchio destro 8 gradi verso fuori, il ginocchio sinistro 5 gradi verso fuori, con una mobilità laterale di 45 mm e 32 mm a sinistra. Mobilità laterale è questa. Quindi due ginocchia abbastanza instabili, dove io lavorerei sicuramente sul rinforzo muscolare al fuori della bicicletta. Una persona non può pensare di, premesso che il corpo si adatta a tutto, ok? Poi quello fisicamente più dotato, muscolarmente più dotato, non accusa problemi, magari un altro li accusa un po' prima. Però una persona non può pensare di stare bene in bici se non rinforza certi comparti muscolari in bicicletta. Non necessariamente solo quelli maggiormente coinvolti, quali atti inferiori, ma qui. Quindi curare una debolezza. Con maggior controllo, ok? Perché da qui parte tutto ciò che c'è sotto. E anche la parte alta. Proprio perché per noi la prevenzione è fondamentale, montiamo immediatamente l'avvento arido. Buongiorno. E la possibilità di avere delle selle test che c'è l'altro Fizzi, premesso che qua dentro non vendiamo materiale. L'interesse nostro, l'interesse di tanti è vendere materiale, l'interesse nostro è vendere servizi, ok? Sono tutte selle test da far provare in maniera tale che uno prova immediatamente la sensazione e poi si procura per foto suo con i riferimenti che diamo se la riporta in maniera pressoché identica. Ma soprattutto per il fatto che quando vediamo certe selle, per noi è... Cioè, tu sei destinato a cambiarlo. Quindi cambiamo adesso, tra un mese, due mesi, tre mesi, non cambia niente. Prima la cambi, meglio stai. Cambiamo la sella e io secondo me apro un po' le scappure. La cosa chiave è adesso, la sensazione di prima era di quasi affrontarsi sulle leve. Adesso la situazione è questa. Oh! E quindi finisce anche a rilassare un po' i gommi. Relasso dei gommi non è questo, è questo. Leggermente, tra l'altro, un dito avanti, tra il dito, la leva, un dito, un uomo. E i gommi, vieni lì, leggermente a parte. Dopo la prima analisi che abbiamo fatto, sono state apportate delle modifiche, come il cambiamento della sella e le tacchette mosse. Leggermente, già d'occhio, si riescono a vedere le prime differenze. Posso il palmo, due minuti, due minuti, due minuti, ma sono in atti. E poi, per me, per me, per me, per me. Vai, 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 aumenta un po' la frequenza, non troppo. Rimango così, 140 lato. Vai, 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 vai. Adesso ho quasi una situazione che si accorta. Bravissima. Andiamo così. Sì, ti faccio vedere una cosa molto curiosa. Questo è il primo a sinistra, questo è il adesso a sinistra. Le differenze sono minime, ma quello che comporta una rotazione avanti di vaccino, sulla tua cadina sinistra, che aveva degli angoli molto presi nella parte, più che altro di conclusione, quindi da sopra verso avanti, era molto schiacciata. Adesso in un minuto di cattura, si è aperta di tre gradi sopra ai quattro gradi verso avanti. A parità di angoli identici a prima e di mobilità identica a prima, però sei tutto più più rotato avanti. la bici non è assolutamente piccola, si vede più, che la senti quasi più corta, ma perché ci sei più sopra qui. Prima eri dietro alla pinzina, adesso sei sopra, a livello preventivo. È bella l'infiniatura così, però in ottica lunga e distante. L'obiettivo è non gravare su questa parte qui, dove passano i nervi che nervano più, le due dita e le prime tre dita e la mano. Mi metto così perché lo sento più avanti. E' una cosa da fare saltuariamente, però se fai un'uscita lunga... Esatto, questa è la condizione standard, diciamo, in cui anche lì questo, cerchi un po' più di linea, le gambe, la braccia e il corso. Scaricare il peso qui e questa parte qui dà la più laterale. Eccoci da, senza fare, a nonrapare. E' un'unica, è la nostra pasta. E' un'unica naturale. E' un'unica naturale. La perversione del piede senti è che la porta con il tuo, in giotte che è sattato. La stanza. La cosa di questo tuo è il punto di un'unica naturale a. l'ultima modifica sull'inclinazione della sella si viene anche ottimo perché quello che mi viene a fare adesso è soprattutto con la testa che sta a morire davanti la testa che sta a morire se uno parte di suo così ovviamente la partita in antiversione è nata come chi è un po' l'iperlordotico come me non in grande forza a livello addominale un gruppo un po' più forte ti porta l'iperlordosi antiversione del vaccino infatti io invece ho bisogno di aver sede molto finale per svuotare davanti questo è perché sono molto bloccato quello che per te è facile per me è difficile per il mestrismo meglio per te qui stiamo rilevando le misure della bici adesso adesso ha disegnato il movimento centrale della bici per avere il centro perfetto del movimento centrale adesso ha disegnato il mamurio per avere il centro perfetto del mamurio un filo superiore della sella dal suo inizio fino alla sua fine quindi per avere l'altezza della sella e le varie distanze orizzontali e verticali che partono dalla sella misure di stack and reach quindi misura di serie sterzo sopra serie sterzo sotto stack and reach sono le misure di telaistica della bici del telaio dal movimento centrale alla serie sterzo orizzontale e verticale e tra poco andiamo a vedere la differenza di posizione tra prima e dopo so che eravate curiosi nel vedere il risultato nel record che verrà stampato successivamente viene del dettaglio attivato come vengono prese queste misure e a cosa si difendono da dove vanno fino a dove partono fino a dove arrivano ovviamente sono misure individualizzate per questa bici con questi componenti ok? sono misure interne che solitamente se qualcuno muove qualcosa o il caso meccanico che lo fa la revisione e tocca qualcosa la bici torna qui sul banco a livello davanti e dietro e le riportiamo precise al millimetro che alla decima di me posizionamento in sella finito ringrazio Alessio e Enrico per avermi aiutato a migliorare la mia posizione se volete usufruire anche voi del vantaggio che avete nei negozi di Decathlon del Nordest ovvero Decathlon San Piero, Belluno, Olmi e Bassano per venire a farvi mettere in sella oppure per analizzare la falcata venite pure a trovarli nello studio di 4Performance che si trova a Piazza Gillo di Nagonia a Federoma e io approfitto e vi ringrazio per la mattinata che abbiamo passato insieme per la bella esperienza grazie a te sicuramente nei prossimi mesi non risenterò più di vari dolori quando sono in sella e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!